Grazie, eccoci qui, benvenuti, sono molto vicino alla camera adesso perché c'è vento, quindi vediamo qui, altrimenti non mi sentiamo. Allora, oggi sono qui a fare una bellissima gita, sono in County Wexford, è la mia prima volta che vengo qui, mi sono tenuto tanti piccoli gioiellini dell'Irlanda da esplorare nel tempo, non l'ho girata tutta e subito in modo tale da mantenere il fattore di novità, e come vedete sono in un ambiente spiaggia, spiaggia, dietro di me c'è la vegetazione, adesso lo vedete lì, questa spiaggia è bella grande, è una spiaggia lunghissima che si estende all'inquinito. Allora, questa spiaggia si chiama Corraclo ed è una spiaggia famosa perché nella sua estensione è stata un ottimo setting per filmare il film salvat, il salvatato Ryan contro Max, quindi qui ci sono ogni tanto posti che diventano famosi dopo un setting cinematografico. Allora, vi faccio vedere un po' attorno, lì dietro di me c'è una, c'è una, così, una shelter, un posto dove ci sono i bagnini volontari, eh, visto che qui dentro c'è tanta gente, non so, io mi faccio vedere, non lo so, proprio qui? Sta piovendo eppure c'è tanta gente in spiaggia come me perché cosa si fa? Non si può mica aspettare che il tempo sia buono. Quindi qui c'è una scuola di sort, ci sono tanti sortus, tanta gente viene a fare un po' il bagno, quindi con ogni tempo, questa è la dimostrazione, che non importa che tempo faccia, si viene in spiaggia comunque. È un posto in cui l'acqua è abbastanza, non è freddissima perché va giù molto gradualmente e, come vedete, il classico, nuvole, panorama classico irlandese. Quindi io vi ringrazio e noi ci vediamo in uno dei prossimi video. A presto, ciao!